Ciao! Bentornati sul canale Sanity Boys! Oggi siamo qui con la zia, per che cosa? Trail Reaction Di che... di che trail ragazzi? È uscito a trail di Venom, uno dei film più attesi degli ultimi anni che usciva... un film atteso del 2018 diciamo, vai! Quindi, trail 1 on delete, ma si parte? Sì Vai! Mi chiamo Eddie Brock No Sono un giornalista Mi ritrovo sempre ad interrogarmi su attività che il governo non riesce a controllare Ho scoperto una cosa molto brutta E... sono stato... Eddie! Eddie! Chi ha parlato? Chi ha parlato? Preso! Dando sguardo al mondo, cosa vedi? Un pianeta sull'orlo del collasso Gli esseri umani sono sacrificabili Ma l'uomo e i simbioti abbinati È una nuova razza, una nuova specie Una forma di vita superiore Cosa vuoi da me? Lo scoprirai Mi dispiace Noi non possiamo far male alle persone Guardami negli occhi, Eddie Per come la vedo io Per come la vedo io Noi facciamo Quello che noi vogliamo Siamo d'accordo Occhi Occhi Polmoni Pancrea Su tanti spuntini A così poco tempo Quel potere Non è poi così tremendo Non sai quanto mi stai facendo paura Eddie, collabora E potresti sopravvivere Ragazzi È meglio lasciare stare Fidatevi I grandi passi Hanno sempre Un costo Quella pata Noi ti mangeremo le braccia E poi le gambe E ti staccheremo la faccia dalla testa Morsi Sarai un coso senza braccia Senza gambe Senza faccia Che rotola per la strada Come un excremento Al vento Che diavolo sei tu? Noi Siamo Venom Oh Ho un parassita Sì Notte signora Chen 4 ottobre Allora Che figata di trailer Bello vero Allora Mi è piaciuto subito il fatto che Se uno ci pensa Hanno fatto un teaser Un trailer ufficiale E nessuno dei trailer L'hanno fatto vedere Il cattivo Se l'ha sempre visto Venom Perché comunque Come tutti sappiamo Questo è il primo film Della Marvel Dove il protagonista È un cattivo Perché Venom è un cattivo Non è un buono È il super cattivo di Spider-Man È interessante Infatti Pensavo che sarà il cattivo Perché Il cattivo è cattivo alla fine Perché questo film Non si può dire che Venom è un super eroe Perché Si fa meno fatica Comunque Venom ha fatto molto bene La grafica mi piace tantissimo Sua Soprattutto quando Si passa da Tomardi a Venom E Tomardi in grande forma Tomardi in grandissima forma Per chi non lo sapesse Tomardi è uno dei miei preferiti Da più film che ho visto suo Praticamente da tanti anni È uno dei miei preferiti mi piace tantissimo Venom è il mio super cattivo preferito Quindi per me Personalmente Ci sono tutti Tutti i requisiti Per vedere un film Che mi manda in estasi E dopo l'estasi Mi manda puttane Comunque Il trailer è molto bello Sempre vulgar Sempre vulgar Mi piace il fatto Che ti fa È un film vietato Il minore di 14 O 16 Adesso non mi ricordo Infatti ci vedono gambe spezzate E Vomita Cosa molto molto bella Lei ha qualcosa a dire su questo trailer? Cattivo Direi che anche cattivo Mi interessa molto Il Venom bianco lì Mi piace questa storia che sia Sony Sì esatto Ecco una cosa molto importante È in associazione con la Marvel Non è della Marvel Non è del Marvel Cinematic Universe Anche perché Come già detto Come sanno tutto il mondo Come sa tutto il mondo Non è un super eroe Ma è un cattivo Quindi Non c'è altro da dire Penso che Perfetto Questo trailer qua Molto bello E anche le battute La battuta stupida Come quella della fine Senza braccio Senza gambe Senza braccio Senza gambe Senza testa È una battuta stupida Dalla Marvel Però è fatta in modo crudo Non so che alla fine Si divora Quell'altra E comunque dice Cosa abbastanza violente Quindi Beh anche questa Potrebbe essere utilizzata bene Da Aldo Jones Questa è l'ultima parte Esatto esattamente Quindi Mettete mi piace Iscrivetevi Condividete Iscrivetevi al canale Che abbiamo tanto bisogno Lei ha altro da dire Delete E allora Delete Perfetto Perfetto Perfetto